Shit E via che parte la diretta Welcome To Favelas To Titanfall 2 Welcome guys To Titanfall 2 Titanfall 2 Hi everybody 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 Come facevai la canzone Eh Tipo così Everybody Nemmeno io No LOL Capture the flag Nope 27.000 Spettatori Attuali Siii Oh Per due secondi Ci ho creduto Non mi vuole ridere C'è uno C'è uno spettatore attuale che forse sono io stesso Non so se me racconta Va boh Allora Che faccio qui? Scorce C'è smocca C'è il tuo micro smocca Ma che bello Oh Ci fosse una volta che Che ci giocassi insieme con questo C'è uno C'è uno C'è uno C'è uno C'è uno I C'è certains Ceci Unce 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 C'è uno Unce 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 e sono già schiattato due volte madonna ragazzi sto morendo in tutte le salse ma che c**o devo ancora vedere il tuo amico smoka io l'ho visto da lontano tipo che camper con G2 e l'invisibilità l'invisibilità è so forte ma se vabbè l'invisibilità è so forte ma se vabbè l'ho avvicinato a bomba oh io ancora un isolo invisibilità e si crepa e si crepa vai smoka dai con l'invisibilità ragazzi ma ancora non perché non mi ha insultato non c'è piacere se non mi insulta non c'è piacere 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 ciao smoka che c**o è tutta sta pace e sta diplomazia non ci stiamo insultando con smoka no ci stiamo we're losing but it's not over friendly pilot is clear I'm going to shoot that in front of him I'm going to shoot that in front of him Sector B is clear of remnant fleet forces. Sector A is clear of remnant fleet forces. Sector B. Ah vaffanculo FG di merda Anche me ha mazzato A parte che ho accorto pure un Mastiff di merda che non lo so usare Quindi vaffanculo Foglott Mannaggia, per forcare lunghi! Ho perso il Titan! Oh ragazzi, quando è così ecco, quando va male, va male, dai! Ah, una granata esclusiva! Vabbè! Ah, che ma questo? Mi sta rompendo il coglione di brutto! Cioè, non è che abbiamo perso la partita, ma proprio... Unisleet reinforcements inbound! Pilot, your Titans are ready. Almost stand by for Titanfall. Pilot no engaged. Manual targeting restored. Friendly pilot on a hull. Hoag! Friendly pilot in attaccato a hull. Friendly Titans attaccato a target. Settacolo A è chiaro, non è venuto da qui. Settacolo A è chiaro, non è venuto da qui. Settacolo A è chiaro, non è venuto da qui. Ma, è ok. Get to the evac point. Yes, 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 yes. All'ultimo ha parlato, perché aveva paura a parlare prima. Dice, se parlo poi perdo, rosico. Non ti preoccupare. Dice, come ogni volta col Team Dead è facile vincere, dice lui, no? Speriamo di incontrarlo ancora. Beh, se lo trovo contro, faccio il furbo anch'io. Vabbè. Mi metto invisibile, mi metto roll-in. E dopo vediamo. Quello ha rosicato tanto, ha rosicato. Quel birla. Smoker, what a stupid, what a stupid child. Quo che siuxa non trovato. Grazie a tutti 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 Tutto a tuo Ma guarda questo con sta arma di merda Che culo Che poi l'ho messo male col mouse Hai sbagliato il rampino Mamma mia come che la sto proteggendo Una protezione Vediamo se dove cassa arriva questo Ecco già è crepato il cogliono Il pirla Grazie a tutti Sweet move Che cazzo fa? No, va a portarla in maniera Oh, sta giocando Ti sta prendendo per il culo Sta prollando Oh, perché vedo che siamo tutti titan Allora sta cercando di farli morire Tu stesso si propone la esca Ha preso la bandiera Ma che bravo Che so dove va questa bandiera Vediamo Ciao a tutti Che cazzo fa? Che cazzo fa? Che cazzo fa? Che cazzo fa? Guarda guerra là! guarda io vado lì aspetto che muore e porto la bandiera troppo facile così questa partita io sono qua al centro sto camperato un po' al centro un po' al centro Grazie a tutti. 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 Rompono il cazzo. Grazie a tutti. Ehm... per andare sopra... Non so se... Perché sopra comunque non sei fuori maga. Quindi sei prendibile, però... Se lo sai usare bene... C'è qualcuno... C'è piccolati... con il cazzo... 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 Vieni qua che ho un Titan Ok ok arrivo subito Dai prendete sta cazzo di bandiera Dai prendo io vieni qua No no vieni qua vieni qua Ah lui gli ha fatto il scatto a me no Perché sta cosa Perché sta cosa Perché a me non me lo fa Perché Madonna mia oh Allucinante questo Non ci credo fa il punto No 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 Io lo presevo a fine Menomale Vieni qua dammi un passaggio 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 Pintia che dura eh Comunque un po' di difesa migliore ci vuole questo attaccano tanto queste sono le carabberate di epigolachi un pilota amico ha il colore tu viene dominando oh that's what I call a street oh taitano nimi go ok 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 ma dio ma perché lento girarsi delle volte un pilota amico ha la flag ora che giro sta facendo c'è vabbè non so che razza di giro fai grande grande ma che ma per oh a me i scatti non li fa la a me i scatti non ci credo ragazzi allucinante quello che è successo laggiù allucinante non li fa i scatti no no c'è qualcosa che non va perché gli altri li fa i scatti quello che è successo laggiù ha qualcosa di allucinante vabbè come me prima cioè l'ho preso all'ultimo ma porca miseria vabbè questo qua adesso io lo porta madonna ragazzi dai t'hanno schiacciato vabbè la fortuna si è girato dall'altra parte dai no ascolta a me i scatti non li fa zero io i pugni non ci provo neanche la fortuna si è girato dall'altra parte non ci provo neanche più a fare i pugni resta qua in difesa con me prima ora guarda che la sta a prendere la bandiera ci sto provando che c'è quel figlio di montana di Golaghi con il Monarch che fa strage è difficile proprio prenderla perché sono in difesa pesante carichati il Titan si muovono tre Titan allora la gria allora io un Titan me lo conservo chiamoglielo adesso hanno 4 Titan 4 contro 2 vai vai uno Titan è andato no non è andato l'ho mancato non ci credo amassero 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 non ci credo siamo solo Yetai Usai ok sennò finisce a pareggio qua sta merda vieni qua vieni qua vieni qua occhio che c'è uno con il cazzo di rosoli vado dietro ok vado dietro vai vediamo se riesco riesco ad ammazzarli copia la torretta di merda questo finisce a pareggio questo finisce a pareggio che cazzo dillo no no le regole scusa poi non come faccio a sapere che io ero troppo concentrato a fare quel quel cazzo di cosa draw parca puttana ma bo hai trik e hai brian mamma mia un po' Grazie. Che merda quando finisce a pareggio! Grazie. Adesso parte un'altra cattura bandiera! Eccola, aspetta! No, vabbò caccia alle taglie, noi abbiamo T-Hunt! BAM T-Hunt! Oh my god! Allora... Vado di Legend, vaffanculo! Io vado di... Vi? Io! Io! Il mio Titan per tantissimo tempo è stato quello! Per oggi non manca il mano! Oh, se vuoi, guarda il mio Spectre colettete! Guarda, io l'ho messo, almeno sono appena messo! Dove sei? Guarda! Cioè, a che senso ha un robot col seno? Spiega meglio! Una forma femminile! Un russo! No, ma quanti ero russi! Cristina! Nice Cyrillic! Guarda, si capisce tutto! Mirato alto! No, ma che ingroio di fili! No, ma che ingroio di fili! Miiiichie che sfiga! Double... Il doppio colpo! Double take! Miiichie ragazzi! Io qua due Titan chan! Ma qua c'è la sfiga allucinante eh! Ehm... Ti vanno tre Titan chan! Ma che è? Ma di puttana! Quanti soldi ho? Quattro! Eh, buoni quattro dollari no? Eh dai! Ti paghi una pifo! Ma vizio! Ma manco! Un gelatino! Ma di quelli... Cazzo! Aspetta, è la fili, faccio il Titan questo! Ah no, ha sbagliato! Ma che cazzo sto facendo io? Bah! E poi tutti senza soldi li becco! Vaffanculo! Eeeh! Quanti Titan! Tifto, ti andes! I have done better time! Tifto si presente! Tifto si presente agora! Ma cheta! Tifto si presente so precast façaleca! Tifto si sente certo! Tifto si senteicht ta vegaся... che cazzo è qua? Oh, come ho detto metà di metà di? hai uno lì No, per quanto oh Ma la cazzatura non lo vedevo che era dietro Cazzo questi qua invisibili Se vogliono l'invisibilità Li do l'invisibilità Per no problem Cagare va Per no problem Ah no, fissi 3 tirano questi, non ho capito dobbiamo ammazzare le taglie, perchè loro vincono ammazzando le taglie eh non lo so, i squadroni hanno sempre 30 da mattissimi, almeno 30 allora stiamo vicini andiamo che facciamo? distruggiamo un Titan? si, si, vai vai radeo, radeo morto è l'U, ma da oh, 500 ho sbagliato, cazzo compremi, 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 ma 500 credimi ho attivato il proprio astuzio, vaffanculo a me ho preso il Monarch fino a poco fatto, non ho visto il video, l'ho attivato cazzo c**o continuiamo a restare vicini vieni qua, vieni qua, qua in fondo, facciamo la taglia c'è una batteria eh, l'ho appena ammazzato no no, vai te, vai te, se lo muovo io ancora ok, facciamo la taglia l'ho appena che Oh, siamo qua, Mastiamo. Oh, se si continua così, li prendiamo. Facciamo così, li riprendiamo, sì. Eh, resta qua vicino a me. Dove sei? Lì. Su B, andiamo, andiamo su B. Ok, andiamo su B. Ok, che cazzo è, oh. Lo prendi? Ok. 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 Nooo Oh vieni qua a mettere giù Ne ho 6.43 Eh ma sei andata da airtaparti saranno tutti da Non ce l'ha fatta da ammazzare Vai 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 Ammazza ammazza che sono Sono braccato hai ucciso? Vaffanculo l'ho ucciso Mi sono ingarbugliato come l'animale Quanti soldi hai messo giù? Ne ho messi parecchi noi eh, parecchi noi Ma è ora posto, è ora posto, dove sciarli Cosa zona west? Ma siamo fuori con il titan là Oh Oh Non ci credo Non ci credo Mio Oh l'ho mancato non ci credo Dai l'ho mazzato L'ho ammazzato Sopra la testa Oh oh andiamo a ammazzare anche quell'altro Dai 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 Mi sembra un cazzo di nuve astuzia Oh oh vieni qua proteggimi che mettiamo qui Aspetta vieni che anch'io c'ho un sacco di soldi Porca puttana Vai butta giù, butta giù che vinciamo Bella che rimontona Wow ma che partita ragazzi Che rimontona Oh ma che partita Epic match Wow fantastico Ma perché non avevo il scudo No l'ultimo Vaffanculo Potevo farlo un bel giro Invece non l'ho fatto Fantastic match No l'ultimo Vedi abbiamo siamo stati vicini e abbiamo Recuperato la grande eh Hai visto ma veramente abbiamo giocato di squadra Patata e cipolle Ehi patata e cipolle Ehi patata e cipolle Tempo è che ricarica il gioco Ok Vai vai Farlo caricare la luce Peppe che qua siamo caldi siamo Sì Qua c'è stato un partitone epico Cetto Cetto Allora Bic parlando di affare Quanto vuoi per una tela col mio ritratto Ha 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 Oh bello è bravo eh Peppe Non mi aspettavo che avesse questa dote così Artistica E mi è piaciuto sempre Il disegno guarda Eh, però, cazzo, è pure di un certo livello quello, eh, non è che... Oh, ma quanto... ma quanto le fai grandi? Cioè, è un quadro... dimmi, di dimensione che prendi. Ah, questa tela, dici? Sì. Cinquanta... aspetta, mi sembra cinquanta per settanta. Bella, bella, veramente. È grande, cazzo. Io, però, una volta ho fatto 90 per 120. Figa. Cioè, un metro e venti, oh. Qua... Ok, faccio partecipa. Quanto, quanto, oh, e se io ti do un disegno, quanto vuoi? Eh, tanto. Del tipo? Eh, dipende. Dipende un certo, dipende quanto perdi, Quanto, dipende, spessi. Ma adesso tutti qui li hai fatti, cioè, per la tua voglia? Eh, guarda, io, purtroppo, ho questi lavori e non ho avuto mai tempo. Infatti, infatti, non ho avuto tempo a farlo, ma... Faccio solo domenica. Ah, fai solo domenica i disegni? Eh, o sabato o domenica. Difficile, guarda, non è... Vabbè, come hobby, più che altro, no? Non lo fai proprio come lavoro. Ci vuole anche... No, no, parla anche parte, ci vuole... Un grande esperizione. Cioè, esperizione... Devi concentrare... Certo, non è una cosa... Eh, questo è il problema. Eh, guarda, è come se fosse... Eh, a studiare. Mmh. Dipende l'oggetto difficile. Per esempio, alla faccia, viso, gli occhi. Mmh. Che ci pare. Se dipende, più si sente leggero, come posso dire, un passaggio, è molto semplice. Fare un labere, google, è molto semplice. Ma, invece, tipo fare una faccia, le mani, magari visita ambito, come la piega, sai la piega... La piega dell'abito, dici? La piega dell'abito, allora è difficile quella. Sì, dipende dalla... Chiara e scura. La parte più difficile è il volto e le mani, dici, no? Certo. Che devono essere... Reali, reali, insomma. Eh, 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 non è così semplice, ma... Però, se dipende per una volta, è difficile. Poi, quanto... L'ammiorerendo, le migliora e le migliori che abbiamo, certo. E che diciamo... Ma boh, comunque è bravo, dai, dai, questo sicuramente. Ma boh. Oh, può pularsi che in futuro ti dia un disegno da fare. Ti ho fatto. Ok, raga, qui... I punti di controllo amplificati si possono prendere tutti con Titan, perché non si ricordasse. Va bene. A parte G. No, tutti e tre. E che tre col Titan non mi riprendi? A, B e C. Vado subito a B. Potete prendere il Titan che cazzo volete? Senza mettere il C. No, l'ha ammazzato. Sono subito a solo, qualcuno mi dia una mano. Ah, arrivo, io ormai voglio amplificare. Amplificare. Ci guardo, eh, io al resto. Vai, vai. Vado subito a B. Eh, vabbè. Finchia, non te l'ho ucciso per mezzo secondo, guarda. Eh, vabbè, vabbè. L'importante è prenderla, però. Ok, vediamo se riusciamo a... Eh, cazzo, ho stato prendendo l'oro, B. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Cazzo, tutti qua. Non puoi crepare. Che cazzo. Oddio, oh. Cazzo, 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 cazzo. Oh, ah, ah, ah. Eh, è C anche, eh. Ormai che faccio, amplifico qua. Ma sì, dai, amplifichiamo. Io vado out un attimo. Io ho il Titan e vado sua. La mia mira è ritornata a quella delle aser. Bene, bene, bene. Oh, non sbaglio, un colpo con l'asera. È ritornato. La mia mira era ora. Grande. Vabbè, io con Leon pure mi divertivo all'asera laddamente. Specialmente in espulsione. È bello. È quello il bello. Di quel Titan lì. Ma dove cazzo è questo in Moscato, eh? Ora per il cazzo. There you go. There you go. I'm now higher on the whole. Sì, capitan C. Sì, capitan C. Keep going, 6-4. We're winning this thing. Sì, capitan C. He's already... Oh, capitan. Don't fall in the hole. Don't fall in the hole. madonna troia guarda che sfiga allucinante eh dio però un ora per prenderci porca troia a a a a a a a Sì, guarda, 6-4. Pilot control initiati. Tutti sistemi funzionali. Non mi ne smate un caso. we have both, you're doing great, 6-4, keep it going way to get the job done eh ciao che bello bruciare in aria eh beh, bello ecco l'eleccio, eh, bruciare in aria eh, bravo è bello quando la mira ritorna eh, lo sai proprio che bello mica, quell'altro giorno neanche a un metro non il prendevo adesso anche dall'altra parte della map ja ma so io cioè sono quello che ho fatto che ho ammazzato e sono ultimo bravo hai fatto bene, comunque hai giocato bene perché hai fatto deterrenze ora c'è il noon man ragazzi, eh, un attimo vado in bagno ti aspettiamo? no, 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 vai, vai, tanto un minuto vado ah, nel senso, ti aspettiamo, sì no, 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 vai, vai a giocare ah, ho capito, senza stoppare ok, ok, ho capito tutto pensato quando uno va in bagno la trova subito sì, sì, ho capito ah, ti immagini no, no, è già capitato è beccolo il bello a me sì, sicuro è capitato tipo, devo tapisciare un attimo bam sto guardando la partita di prima ah, dove avevo un sacco di soldi andavo a depositare ne avevo 6,43 vediamo quanti ne ho depositati eh, sui 300 sì, ecco rimanevano gli ultimi spiccioli 4,90 depositati è arrivato quello che distruggei la tastiera sì ma chi è noob man? oh, mi raccomando, noob man fai piano perché quel ti fa un cazzo di rumore dio cane aspetta dio cane, vado a vedere se oh, dio cane mettiti una coperta sopra le mani così attutisce il rumore vai in mona di riprodizio dispositivo di riprodizio no ecco, veramente bene mi hanno scocitato in me un'unica affermazione ecco, ecco qua bra, mi è bebe 25 grand devo ancora da niente partito qua eh, eh, eh culo sì, mi sei vittor partire sempre è la, è, è, è il microfono della web di io a niente perché ma mica c'è ma mica c'è miche? no sì ah, lui è entrato stesso adesso non sono accorto lui entra e non si può accorgere di niente vedi io entro e non mi sentite questo è un segno fattivo per me sì che ne sanno i toscani diglielo si sentono tasti? sì madonna come faccio? dal regista Clint Eastwood un incredibile dal regista Clint Eastwood bounty hunt ragazzi qua lo ha degli scorci dai registra già già bounty hunt concentriamo questa partita qua andrebbe bene legion e scorci io ho messo lo scorci e io uso il lion va bene 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 che voglio radiare vai vai beh, run in va bene perché anche se sono aggrappati i muri li dai di quelle spadate ah, oltre i muri sì, c'è sto bug qua sto glitch diciamo raga, però la voce inglese quando parla la donna ti fa proprio venire nelle mutande oh sì mamma mia mi sa proprio di 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 ma guarda sto figlio di pittana guarda io stavo qua minchia, minchia, l'ho salpita bello che è anche mirato vabbò no, c'è quello con la EDM, EDMG eh bah SMR, su, c'è voglia di eh, infatti che cazzo EDMG no, vai che arma di merda con l'SMR che cosa no, vai no, vai no, vai no, vai no, vai no no ha rotto il cazzo questo eh sto sto used l'hai fatta un po' duretta qua ragazzo dai come come prima che la possiamo fare la vittura eh prima infatti non è che sia storia molto facile però molto divertente ah niente a me scatti non li fatti c'è sto figlio di bastana col pompa che rompe il cazzo si si iam legger ah l'ho già sentito iam legger andiamo con lì qua c'è la taglia c'è la taglia c'è la taglia suca ha rotto il cazzo questo posto questo è merda eh ragazzi serve aiuto ho tante soldi ma entra ma entra ma no ma perchè fa l'affanculo per entrare oh ho tante soldi oh porca puttana hai tanti soldi per te si è un po' si ce li hai riesci a depositare no no ti siamo bella Siamo arrivati! Oh, siamo a Hathorvich Sto subito, sto ammazzando tutti con i pugni per non farmi vedere Oh, ho anche ammazzato un biato con il pugno, è un'ora che sta facendo botte Sto dando botte a manetta da te Stai lì, stai lì, hai lì, ho tante soli Aspetta che mi mette una mica qui Sei schermato, lupo Ma fanculo lupo, cara migno Eh, basta che crema, ragazzi Intanto ho deposito 347 Gian Gian, guarda che ti do, una batteria, la vuoi? Vai, cancia Vedi? Ah no, sono pieno io Anzi, anzi, vai, vai Vai Vai, 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 vai Vai Minchia, è troppo tardo Madonna Sono rimasto un tastramma, accidentato di Gesù Io ci risalgo, ora schianto, ma ci risalgo Dov'è la taglia? La taglia mi ha ucciso Ecco, mi seguendo una batteria Vaffanculo Più un po' è Trill transferring to pilot Thermal launcher ready Popa tonica Grande Grazie Io 24, dove cazzo vada a scaricare? Non ho fatto niente a sto giro, niente C'è un Taita a sinistra, lupo Lupo, sinistra Vai, vai da lì, vai da lì Prova, ma già era anche questo Laseralo Ma l'ho mancata cheee Ma perché se no miro lo manca? Vabbè, top Guarda Top L'ho visto proprio così diretta I'm instinctive reinforcements inbound A friendly pilot has ejected A friendly pilot is attaccing your target A friendly pilot is attaccing your target A beleza è un down Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso che fai? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, 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 ok. 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 Oh, 500 criti da mettere giù. 541 io. C'è uno qua. Wow. Sto facendo terrorismo con sto scorcio ragazzi. Non sono riuscito a democidare ragazzi. Allucinante. Allucinante. Vabbè, dove cazzo devono andare questi ormai? Ok. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Non ti preoccupare. Tanto ormai hai perso. Ok. 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 io pensavo quasi tutto il stato invece c'era che ho un filo e tre metalli per il gioco ma perchè il cerchio normale è più preciso se miro è precisissimo se non miro spara un po' a cazzo quello del laser? si io risparavo sempre senza mirare ed era preciso si anch'io fino adesso da un botto che non uso l'ion magari l'hanno l'hanno cancellato qualche la fisica se di vicino lo prende ma se è distante non mi ri se non mi ri non lo prendi c'è gente che mi chiappa da distanza allucinante con quel cazzo di laser ma non lo so ma da lontano io guarda ti posso dire che miravo da lontano con quel laser no mi fanno incazzare mi trovavo la grande chi è? per quel che è successo? mamma mia questo era tipico da da costata fiorentina da post costata fiorentina che è? e addio figlia è spettato proprio benissimo spettanato sei benissimo uno spettacolo uno spettacolo 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 Dio mio Ma logoronico non c'è Ecco perché se metti logoramento No esce solo quello Poi Casomai è grande richiesta Logoramento Logoramento? No Ah beh se è come ieri che è uscito Una partita su 6 Anche di logoramento Chiuso Per me non c'è problema Anche se Ultimamente logoramento Crepo soltanto Non so perché Io vorrei cacciatore di piloti Eh si Ma non esce mai Che qua si chiamerebbe Scontro Ma l'hanno già tolto Ah no piloti contro piloti Non è questo Poi quando mi piaceva marchiata a morte pure Madonna marchiata a morte E' bello Quando si è marchiato Menti ti sale in ansia Sì già l'aveteva finito uno Cacciatore di piloti Qui ci vuole roba piazzata Allora anche qui si possono prendere tutti e te con i titan Oh Oh Mi prendo il legge Io provo Nordstar da lontana Per i segni rompo il cazzo Nordstar Sicuro Questa mappa Vediamo se ti rompe con gli occhi Questi grandissimi figli di copertà Vai i golders Oh dio sta mappa qua era oh dio dio Io vado sul via e prova a vedere se riesco morire subito Io vado sul letto Sul pilota Oh Amplifico ci armi dai vaffa Oddio che la cazzo Sì 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 Grande Sì Andiamo sua Sì Sono sua io Ok Ok Stavo dicendo cerco di fare qualche kill Sono bravo ma non ci sarà riuscito Pugno pugno magicamente vince lui Dai The Perforator c'è Come on E' mista mistico E' mista mistico Ancora non c'è Uh Mica dubbita di Mica E' un'unica E' un'unica renasica dopo Sta scassando la minchia Bravo Fatti valere compare E' un'unica renasica E' un'unica renasica E' un'unica renasica E' un'unica renasica Io guardo quelli che arrivano da Gianci Ma che c'è Ma che c'è C'è Sì Ma che c'è E' un'unica renasica E' un'unica renasica Dai quindi In questa partita c'è la mira che fa a cagare Ma vaffanculo Vaffanculo Oh Eeeh C'è lì ragazze Vieni qua Dai Che t'ho detto seguimi Non fare un giro al contrario Che ho fatto un attimo a giro Ah c'è Eeeh Un'order Ma vaffanculo Che sfigazza oh Ma dio Chi è il taita qua che mi blocca Uh Che cazzo c'è dietro Che cazzo c'è dietro Mi sta laggando questa partita Ma eeeh come sto morendo raga Allucinante Si fammi spawnare davanti di Tyler Non ti spavare Tanto mi ce ne frega Si crema otto mila volte Ma Minchia Madonna mia come cazzo sto morendo Mi Ma D Mi 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 Grazie a tutti. Oh, ma guarda questo. Grazie, grazie. Me ne vanto. Mi resto su C. Eh, ormai è tarde. Non ho corretto perché lo tengo. Che sconfitta, oh. Ci abbiamo capito un cazzo, venga. Che bat. A me sta partita mi sta lagando un botto. No, ci abbiamo capito un cazzo. Che scuola. Che scuola. Ah, che scuola. nooo vengo via con vui Ah beh, io ora me ne vado da sol Con D7 SIS Brande Alla fine non ci sono ammazzati Voglio un gantino se lo dare io Ah, vada Oh, oh, oh Big, okay Oh, ma ancora niente? Tocca a spammare un po' con lo del roio? Eh, forse sì. Che partitazza, che merda. Sì, ma al nord star non mi è servita, non lo so che avete. Sì, non lo so. Sì, non lo so. Sì, non lo so. cazzo le taglie madonna ragazzi mister bla bla cazzo le taglie cos'è? è un pro è un pro è un pro quello lì cioè ci fanno... ci ha fatto un'area qua con il punto A è un pro è un pro però l'avete perfonato? mica già camber è ammazzato già è quella mister bug è camber è un progetto 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 Sì! Pensavo di avere l'invisibilità Tranquilli ragazzi vengo a farvi Vengo a farvi una bella sorpresina adesso C'è quello eh, camberè, lo cazzo Adio Mato Dai dai Oh, ha matto, me ne ha matto Io so, bravo Eh, ok, fatto, fatto Bene Si è Ripulisco un po' le altona Oh, c'è 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 No, in due bastardi Che bello Calcio in faccia a Mr. BlaBla Ammazzo però, madonna Such a Gravatole Multi ridicule Quci I've got a bounty inbound. Hunt it down and eliminate it. Cheeva per... Non ce la fai a scappare, è lui fianza. Tutti i cazzoni. Mi sono sconti. Ma non ce la fai a scappare! È allusionante. tutti i cacconi chi è? chi vuoi che sia? un capo un capo di tutto ma come ragazzi chi è? noiz nooo noiz super noiz si nel nome ho aggiunto un pezzo del tuo noiz adesso mi chiamo NoizNabbo voi siete sempre a giocare a quel gioco in un gioco di nome Titanfall 2 yes io l'altra sera sono tornato a fare qualche partita all'1 è stato troppo divertente io l'altra sera sono tornato a fare qualche partita all'1 sì sì hai presente un G1 livello 25 che prende per il culo 4 G10 il logamento esatto dai vi lascio giocare buon game grazie ci vediamo prossimamente ciao ciao baci baci a bracci del vostro capo di sto cazzo dai ciao a noi ciao 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 che è questo? no no mare no mare è perfunito già questo è il camber questo cazzo di merda questo è incredibile ma chi è blablack? questo è cazzo di camber ma quello gioco come cazzo di camber perché può fare un po' malaserato perché lui può fare tutto praticamente oh ne ho fatto fare un titan e ce ne ha un altro ma porca puttana il camber allora un altro taita che sono invisibile lui fa il salto come corpo a corpo va bene non è un altro taita un altro taita che vedo che sei invisibile che cazzo di acqua che cazzo di acqua che cazzo di acqua che cazzo come già Sì, c'è questo, c'è questo, c'è questo, c'è questo. Noi gli fai un cazzo a Mr. BlaBlaG Noi gli fai un cazzo 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 Ma non si poteva chiudere sto cazzo di partita Noi gli fai un cazzo 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 Noi laюда Noi gli fai un cazzo Noi gli fai un cazzo Noi all'uomo Noi gli fai un cazzo Ehi, ho vando e ce ne sono la camera, oh Questo non c'è missione di merda molt燒, non c'è sicuramente E con questo che è vero Non c'è vero Dio camera chiamato sopra di me Cazzo sta bestia mi poteva anche sparagnarla Fostile titan in east Welcome back, report vehicle systems functioning at normal Grazie. Incoming large boundaries, destroy it. Tu come si blechina sempre la vita piena quello là? Chi è? Perché usa poi sempre lo scudo col Titan. Lui che fa? Con altri Titan usa solo lo scudo. Non spara. Spara solo ai piloti. No, c'è un po' lì. Il entro ha imposto un bambino. Il entro ha imposto un bambino. Si, non c'è un po' lì. Ah, c'è un po' lì. Chiai figlia f*****. Chiai figlia f*****. Chiai figlia. Tu stai dominiando. Chiai figlia. Chiai figlia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, si è ricaricato. Lo sai cosa vuol dire ricaricato? La Black si è ricaricato con lo scudo? L'ho visto. Ma la Black? Si è ricaricato, si. Ho visto che si è fermato, ho visto il suo scudo aumentare. No, non si è ricaricato. C'è lì, da quando? No, no, non si è ricaricato. C'è. C'è dopo quello che ho visto prima. No, non si è ricaricato, non si è ricaricato. The enemy ha ricaricato, non si è ricaricato, non si è ricaricato. No, non si è ricaricato. E chi cazzo lo vedi a questo? No, non si è ricaricato. Ragazzi, ho radiato Black Black. No, non si è ricaricato. Riradiato. Riradiato. ehi figurati se non si credeva a stare detta lui no? cazzi eh che sono mazzaro ehi i 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 No, 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 no. No, 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 no. La placa è qui ancora. Farò un altro. Che mi ha ammazzato di nuovo, tra l'altro. Vabbè, ragazzi. No, direi, io fu l'ultima, questa non mi è piaciuta. Eh, fin quando gioca con sto coglione è qua. 23 e 37. L'ultima la devo fare per forza. Basta. No, però quella cosa che ho visto, o è stato un tipo di lag, perché ho visto da metà scudo che l'ho colpito si è ricaricato. Ma ha ricaricato cosa? L'energia del Titan? No, l'energia. Lo sai che quando gli dai la batteria c'hai anche scudo. Ah, lo scudo. Quindi parliamo dello scudo del Titan, giusto? Sì, ho visto il scudo ricaricarsi. Come... Come il Monarch, dici? Bravissimo. E lui utilizzava il Leon. Cioè, quella cosa mi ha un po' sconvolto. Cioè, ho detto, ma come cazzo è possibile? Assorb'energia, però, è possibile. Ah, bravo, ha una mod, lui. Il Leon? Eh. Ah, una mod. Sì, mi senti sì. Ho visto che era girato di spalle di me. Si è fermato. No, 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 no. Il fucile divisore ripristina l'energia. Sì, ok. Allora, io l'ho colpito. Lui stava scappando, per modo di dire. Non mi ha manco sparato. Si è fermato. L'ho visto che si è fermato. E il scudo si è ricaricato. Boh. Comunque è vero che c'è il kit del Leon, che è il fucile divisore ripristina l'energia. Sì, l'energia non è il scudo, è l'energia dei proiettili. Boh, adesso questo non so se è uno o l'altro. L'energia è imbrigliata, sì, no? Quella con la calamita disegnata, giusto? Sì, sì, è quella. Sì. E qual è la raccolta di bollagia? Amplificatore vortice, però, dello Leon, si tromenta del 35% di Dami. G449. G449. Mi sono raffreddato. 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 Fai lo speck 3 con le tete. Fa troppo ridere. Vabbè ragazzi ti saluto Buonanotte a tutti Guarda lo spectre con le tette E fa che fa ridere E poi vedete lo come donna che cambia In effetti è un robot No solo uno Solo uno la femmina era Era più agile Non lo sapevo 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 Vabbè buon proseguimento ragazzi Buonanotte Ciao notte Ciao notte Allora Good night Good night Bye bye Ciao notte Ciao notte Ciao notte Ciao notte ma qua non parte un cazzo non parte non parte Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Uno, bam, da capo, sei minuti. Ok, no, 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 facevo per capire che erano sincronizzati. No, ma lì non serve un cazzo con la roba. No, no, quello lo so. Sì, perché sono tutti su logonamento. Eh, porco Dio sto logonamento, ho rotto il cazzo. Eh, sì. Dai, faccio l'ultima e vado a letto, dai, porca puttana. È proprio vuoto sto gioco, eh, vuoto proprio. Non c'è più gente, è vero? Niente, è proprio buono. 1.500, 2.000. Sono pochi, no? Sono pochissimi. Tutto il mondo, ma scherzi. Non lo so se poi tutto il mondo è il sé, non lo so. Però... Boh. Sono pochi. Oh, che faù. Oh, che faù. Yeah. Guarda bene fare, cattura la bandiera, sto per dire. Ti piace, cattura la bandiera? Sì, è carino, dipende, eh. Guarda, è impossibile. A volte veramente, cattura la bandiera è uno di quelli che mi diverte di più, a volte. Sì, ma anche lo vedo dove c'è più gente. Eh? Non c'è più gente che gioca, purtroppo. È poco, pochissima. Ormai... Si aspetta il 3. Catturo la bandiera. Talmente l'hai detto, noob. Cioè, sei stato te a fare sta partita, questo matchmaking. Allora, dai, prendiamoci sto cazzo di... Allora, dai, prendiamoci... Allora, dai, prendiamoci le squadron. Allora, dai, prendiamoci! Allora, dai, prendiamoci il soldato. Sì, sì! Ma cosa è? Che si fa? Che cosa? Vai, 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 vai! Basta che sca... Eccomi Ci siede, sì? A friendly pilot has the flag I saw almost ready! Hang in there! I'm ready! All in any time! I just stand by for time! Allora, io sono aiutato a restare in difesa, eh? Sì Eccone uno! No! Vado! Vado! Vai, vai, vai! Oh, l'hanno presa? No! Adesso sì, non ti preoccupare! Io adesso questo lo ammazzo! No! 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 Oh, questo è il peso! Non ti preoccupare! No! 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 Grazie a tutti. 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 Che si fa? Si prova a manda subito in base loro? Oh, vorremmo fare un viaggio. Ah, c'è te? 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 Ok, vado leggermente in centrale io. Vediamo che cazzo. Che succede da qui. A me, c'è te? C'è te? Ah, c'è te? Two punch, c'è te? Perché questo non veniva. sul mio titan, porra, c'era sul mio titan, io lo scontavo. Ah, c'è te? Oh, c'è te? Oh, c'è? 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 Lolo 4-1 E' un po' di nuovo Mamma mia Spontati eh E tu pure belle kill l'hai fatto, no? Mamma mia Non c'è questo momento Quinto Quinto l'ho fatto, no? Mamma mia Anche l'assurdo ho preso il volo Mamma mia Non c'è questo momento Forse il ton è quello che mi lascia più lì E tu vai, vai Tu quando ti trovi bene con uno Fai un lungo periodo con quello Poi pian piano darvi Eh il ton si E' bestiale Il ton è tanta roba Si è semplice Si è abbastanza semplice Il canone decorante è impotente sia con Thailand che con Piloti Si, si si Quindi va bene quello dai Bella partita eh Guarda lì Boh dai va Boh dai Andiamo a Nin Si anche perchè lo si mette il lavoramento Se non si gioca Mamma Vabbò Oh vecchio Buonanotte eh Ciao 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 ciao